domenica 5 luglio 2020 ci stiamo provando da solo ad arrivare a chanusco su naviglio a piedi sarà un po dura se voglio provare e siamo al bicoca village per non prendere i mezzi voglio farmela a piedi sono 10 chilometri in teoria due ore sulle per arrivare tanto ciova io non ce l'ho mai provato si era abbastanza stancante però devo dimagrire almeno dimagrisco anche sono 10 chilometri però si proviamo sono 35 gradi fuori abbastanza caldo prove ci sta a provare vedremo come andrà o io però sapere primo primo traguardo l'ho fatto dal bicocca a sesto marelli prima da guardo l'ho fatto ora può fare secondo traguardo da sesto marelli a colonia monzese già me sto pentendo di averlo fatto però almeno per dimagrire lo devo fare e da oggi l'ultima giorno ho mangiato pulcher king e metterlo a dieta comincerò a fare palestra a meno così diventerò ma dopo col terzo traguardo ciao ciao è abbastanza lunga fino a cianosco sono la metà strada tracciata tra colonia monzese e sesto con caldo voglio sono 35 però 36 gradi si schiatta di caldo meno male che due borracci di acqua per infrescarmi non è tanto bello a farsi a piedi però pure di risparmiare due ore 40 e biglietto la faccia a piedi almeno al nostro risparmio e vanno a dimagrire tra poco arriviamo a colonia si fa mangiare le zampe e la schiena già siamo a metà strada siamo un sospiro di sollievo già leggo colonia monzese il cartello di cologno vuol dire che siamo a buon punto per la stazione di colonia c'era ancora 23 barra 3 chilometri però almeno se vuoi un punto siamo non fatelo ma non fatto neanche a voi se dovete farlo organizzatevi perché è abbastanza difficile camminare poi 10 chilometri in una volta sola e tanto e non sono anche allenato abbastanza difficile vedo però almeno uno perci prova perlomeno la soddisfazione c'è l'albero perlomeno mi sono arreso era troppo lungo arrivare a cernusco a piedi ora se non la cavoli panchina un parchetto a sessolo c'è la pulizia locale sono morto sono ora aspetto il taxi che mi venga a prendere sono distrutto mio padre adesso vediamo cosa che mi venga a prendere sono distrutto mai più mai più piuttosto va di mezzi e piuttosto non mangio non mangio e così non amacrisco anche perché si bolle di caldo si bolle con solo due acque abbiamo e col ciollore scarichissimo cioè una bottiglia con il ciollore scarichissimo e niente vai vai ciao a tutti grazie